Rifiuti abbandonati nel bosco, nei comuni di Sturno e Friggento, nell'area picnic della comunità montana. La denuncia arriva dal segretario provinciale dell'UGL Polizia, Vincenzo Moccia. Un grande congelatore, un lavabo, cassette di plastica, vetro e altro materiale, un cassonetto colmo di rifiuti. Tutto questo nel sottobosco. È l'ennesima dimostrazione di quanto molti cittadini siano incivili e non rispettosi dell'ambiente che li circonda, dice il segretario. Le responsabilità non sono solo delle istituzioni, ma anche di chi non salvaguarda il proprio territorio. Non è la prima volta che il segretario Moccia denuncia tale situazione. Già qualche mese fa, sempre nel sottobosco, tra i comuni irpini, erano stati notati rifiuti di varia natura, visibili dalla strada provinciale 38 che da Sturno conduce al bivio di Friggento. Bottiglie di plastica, vetro, bidoni, frigoriferi e anche vecchi televisori, ammucchiati tra gli alberi. Il bordo strada era intasato da fogliame e da arbusti che col maltempo hanno creato pericoli alla circolazione. Nonostante ci sia la raccolta differenziata porta a porta, servizio ormai consolidatosi, c'è ancora chi preferisce abbandonare i rifiuti lungo la strada. Basti pensare, dice ancora il segretario UGL Polizia, che c'è gente maleducata a tal punto da scomodarsi con la propria autovettura per scaricare nell'ambiente circostante i rifiuti di ogni genere. Il progresso di una comunità si vede nel rispetto e nella salvaguardia del proprio territorio.